Furti in abitazione arrestato un cittadino marocchino di 36 anni. L'uomo, domiciliato a Capaccio, è il risultato destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Corte d'Appello di Salerno. I fatti risalgono al 2017, quando l'uomo si sarebbe reso responsabile di una serie di furti in abitazioni, veicoli ed appezzamenti agricoli nel territorio occidentano. Gli episodi avevano causato notevole allarme tra i residenti e gli agricoltori locali che avevano subito ingenti danni materiali. Dopo l'emissione del provvedimento di carcerazione, il cittadino marocchino si era comunque reso irreperibile. I carabinieri però hanno proseguito le ricerche e sono riusciti a rintracciarlo e a procedere al suo arresto. Subito dopo, l'uomo è stato tradotto presso la casa circondariale di Salerno, dove dovrà scontare la pena prevista dalla condanna emessa dalla Corte d'Appello. Sempre nell'ambito delle attività poste in essere dalle forze dell'ordine, avviato in seguito ai numerosi furti presso diversi esercizi commerciali, questa volta nel comune di Nocera Inferiore, è stata eseguita un'ordinanza di applicazione di misura cautelare della custodia in carcere di un uomo di classe 1985, residente proprio a Nocera. Il PM ha contestato al destinatario della misura i reati di furto aggravato e continuato con l'aggravante di aver commesso fatti con violenza sulle cose e di aver causato un danno patrimoniale di rilevante gravità in alcuni casi.